Metti l'aloe nella Nivea Cream e applicalo sulle mani e le tue mani saranno idratate. Benvenuti sul canale! Prima di iniziare iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato, lascia un commentino qui sotto e metti un like se il video ti è utile. Oggi vediamo un rimedio per le mani screpolate, per le mani che soffrono il freddo e utilizzeremo questi due ingredienti molto amati, perlomeno da me, che sono l'aloe vera gel e la Nivea Cream. Allora, entrambi sono super 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 idratanti e soprattutto vanno anche a proteggere e lenire le nostre mani, che è quello di cui abbiamo bisogno sicuramente. È molto semplice, vado semplicemente a prendere il coperchietto della Nivea, già che c'è, metto un pochino di Nivea, non tantissima, non ho bisogno tantissima, metto un pochino di aloe vera, ecco qui, e lo vado a mescolare e ad applicare sulle mie mani, ma anche state attenti a metterlo anche dove ci sono le unghie per evitare le pellicine, perché io, che spesso trascuro questa zona, noto sempre la differenza di quando vado ad idratare la zona delle pellicine oppure no. Fatevelo assorbire bene. E questo è tutto. Ciao!